Buonasera a tutti, come sapete i giornalisti non sono presenti in sala, hanno inviato le domande per Fonseca e Cristante, due colleghi, Roma Radio e Roma TV, faranno da tramite del Porsche, al mister prima, al calciatore dopo. Possiamo iniziare? No, non c'è domanda. Allora, domanda da parte dell'Ansa. La Roma, in questo tour de force di 10 partite in 30 giorni dopo l'impegno in Europa, non gioca mai di lunedì e domenica. affronterete il Sassuolo neanche 72 ore dopo la gara con i Young Boys, ritiene la squadra penalizzata dal calendario di Serie A? Non so se prima... Vuole traduzle? Ok. recuperare la squadra. Penso che le squadre che giocano normalmente in Europa League possono avere più tempo, possono giocare lunedì, ma non è una scusa. Anche perché abbiamo cambiato sempre di giocatore in questa fase, può essere più difficile, più avanti. E io è chiaro che preferisco sempre avere più tempo per recuperare la squadra. Inoltre, inoltre, vorrei avere più tempo per la squadra, per la squadra di Europa League. Inoltre, 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 ha più tempo per la squadra, perché non giocava di lunedì, ma non giocava di lunedì, ma non giocava di lunedì. Inoltre, inoltre, non funziona. Ma questo non è una domanda. Io vorrei dire più tempo. Ma così è. Dobbiamo rinforzare. La domanda da parte della Gazzetta dello Sport. Conferma la sfuriata dei Fritkin nello spogliatoio lei che era abituato ad un presidente assente? Non è vero. Non è vero. Ma io voglio dire più. Non so se... No, no. Da primo giorno che io sono arrivato qui, io sono stato sempre con grande rispetto per il lavoro del giornalista. Io faccio sempre le mie analisi, sempre in una forma onesta con la verità. Ma questa notizia è una grande bugia. Questo non è un lavoro serio. Io questo non posso accettare. Questo non è rispettare la squadra. E questo non è volto a dire. Un lavoro serio. Bestätigen Sie den Wut-Ausbruch von den Fritkin in Unkleideraum nach Neapel? Sie waren doch an einen relativ abwesenden Präsidenten gewohnt, oder? Nein. Ich muss zuerst mal sagen, dass vom ganz allerersten Tag großes Respekt von mir gibt vor der Arbeit der Journalisten. ma io devo dire che, trotz delle analisi che si normali facendo, sono molto bene, sono totalmente e completamente un vero con quello che hai detto. Questo è veramente una luce. E devo dire che questo non è una accettabile risposta. dei giornalisti. Corriere dello Sport. La squadra ha capito gli errori commessi a Napoli. Pensa di cambiare ancora? Sì. Dopo la prima sconfitta nella stagione abbiamo fatto come normalmente le analisi. che hanno capito quello che non abbiamo fatto bene e quello che dobbiamo migliorare. È normale che succeda così. Sì. 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 Il tempo. Ha paura che la sconfitta di Napoli abbia minato la fiducia della squadra? No. No. Prima è importante capire come abbiamo fatto quello che non abbiamo fatto bene e quello che è successo nella partita con Napoli. Ma senza dramma, senza depressione. Perché questo è qualcosa che si crea fuori. Io non voglio che entri qui. Abbiamo perso. abbiamo capito quello che non è successo bene e la squadra ha capito. La squadra sta con fiducia. Non è questo il risultato con Napoli che altera la fiducia della squadra. L'atmosfera è buona. Non ha ragione per non avere fiducia. Ha la sconfitta in Napoli potrebbe influenciare la fiducia della squadra? Non. Come già detto, abbiamo bisogno di capire, cosa abbiamo fatto bene e bene in Napoli. Però, devo dire, è totalmente indramatico e non davvero depresivo. Ciò che abbiamo fatto bene, soprattutto in Napoli, deve essere adesso in Napoli. E non dovremmo fare la sconfitta. Non dovremmo fare la sconfitta. e non dovremmo fare la sconfitta. E la principale è che abbiamo capito e la sconfitta. Il credito è grande. E credo anche che la stimmung è relativamente positiva. Il Romanista. Molti suoi colleghi allenano anche in conferenza stampa, nel senso che usano le dichiarazioni pubbliche anche per mandare messaggi ai giocatori. Lei riesce quasi sempre a rimanere impassibile nelle vittorie e nelle sconfitte. Ci dice dopo la partita di Napoli almeno una cosa che arriva, ha rimproverato ai calciatori? Io trovo sempre di essere equilibrato le mie analisi. E penso che dopo la partita noi abbiamo le conferenze a stampa, le declarazioni più vicine alla partita. noi dobbiamo essere equilibrati. Una cosa è questa analisi che facciamo per voi, altra cosa è l'analisi che faccio con i giocatori. e ho fatto, loro hanno capito, senza nessun problema di dire quello che penso ai miei giocatori. ma questa analisi è dettagliata, di dettagli, è fatta con la squadra sempre. Grazie. 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 Grazie a tutti. Sì, è vero che Giacomo e Pellegrini non hanno 90 minuti in piedi, magari dovrebbero riuscire un po' di più. E adesso dovremmo passare a passare, ma noi vedremo, come già detto, chi gioca. E quindi al fatto che la squadra reagirà subito dopo Napoli o al risultato? Cioè domani conta solo il risultato, a prescindere dalla prestazione? Il risultato è sempre lo più importante, ma per me è importante anche la prestazione della squadra. La squadra deve essere come normalmente è, giocare come normalmente gioca, senza pensare alla partita con Napoli. Abbiamo finito la partita con Napoli, abbiamo finito l'analisi di quello che non abbiamo fatto bene, di quello che dobbiamo migliorare, ma questa è un'altra partita in cui dobbiamo vincere e dobbiamo giocare per vincere. o il risultato, il risultato è sempre il risultato che il risultato è sempre il risultato. Il risultato è sempre il risultato, ma anche il risultato è interessato. La squadra conosce molto bene, come dovrebbero spiegare. Il risultato che abbiamo fatto sempre, dovrebbero anche mostrare il risultato di oggi. E senza pensare a questo risultato, ciò che in Napoli è avuto il risultato di oggi. Grazie al Signor. Grazie. In pochi istanti, arriverà Cristiano. Possiamo cominciare con le domande per il calciatore. Ciao Brian, domanda del Corriere della Sera per te. Contro il Napoli per la prima volta la squadra è sembrata lunga e spezzata in campo. Come mai? Sicuramente non abbiamo fatto una buona partita, lo sappiamo. Abbiamo visto tra ieri e oggi i nostri errori, le cose che potevamo fare meglio. È una partita singola, abbiamo fatto molto bene tutte le altre fino ad oggi. e oggi dovremmo fare lo stesso bene. In questo caso è un po' di riportare la squadra. Per la domanda di Neapel, è una domanda di Neapel, che è stato molto più lunga e non si stiamo molto più lunga. Per cui? Sì, è una domanda di Neapel. che abbiamo spiegato davvero bene. Siamo molto bene, siamo consciente delle capacità e delle capacità che abbiamo e queste capacità dovremmo uscire ora perché dovremmo mostrare questo spielo che possiamo. Come ho detto prima sappiamo di non aver fatto una buona partita abbiamo visto i nostri errori dove potremmo fare meglio può capitare insomma è stato un caso isolato sicuramente siamo andati in difficoltà sicuramente ha avuto i meriti anche il Napoli di come ha giocato però insomma come ho detto prima è stato un caso singolo e da domani insomma rifaremo e vedere il nostro gioco Sì, dopo 10 minuti in Neapel avevano già difficoltà con questo spielo e non avevano la possibilità e non avevano la possibilità di dare il risultato è una panna per loro come già detto abbiamo analizzato questo spielo è un caso ma è un caso questo spielo non avevano ancora visto il giorno e quindi e quindi dobbiamo mostrare questo spielo che possiamo fare la domanda di Centrosono Sport il mister ha creato su di te un ruolo alla Bonucci come costruttore dal basso con questi tagli sul lungo che riesce a fare con una certa facilità qualche mese fa avevi raccontato di preferire comunque una posizione più avanzata ad oggi ti stai trovando meglio da primo uomo in costruzione? Beh, in questo momento c'è bisogno di me in quella posizione poi sicuramente quando si gioca in un ruolo si riesce a migliorare sicuramente a prendere più confidenza con la posizione insomma adesso c'è bisogno lì e poi insomma il mister deciderà dove schierarmi la domanda non penso sia una cosa vera insomma non penso sia una cosa vera insomma ma non mi ricordo perché insomma in questa stagione nella passata contro le altre grandi abbiamo sempre fatto ottime partite e mi ricordo sinceramente poche sconfitte ecco quindi non abbiamo mai affrontato il discorso perché appunto non troviamo bisogno ma diciamo ma diciamo domanda di Roma Radio All'andata in Svizzera è stata una partita dura, quali sono i punti di forza dello Young Boys? Sì, sappiamo che è un'ottima squadra, che pressano molto bene, è una squadra molto intensa. L'abbiamo rivisti in questi giorni e sicuramente ci aspetterà una partita difficile. Sono con noi davanti nel girone e quindi sarà una partita fondamentale. Dobbiamo fare un'ottima prestazione per portare a casa il primo posto. È una domanda che è stata molto difficile per il Hainz-Spiel in la Svizzera. Quali sono le stagioni del IB? Pressing e la Tatsazione che si spieva molto intensamente e molto attenzialmente. Ci sono anche un'ottima settimana, come si spieva ancora. Grazie a tutti. Grazie a tutti.